musica devo dire ciao no devo dire, ehi bimbi devo dire, ehi bimbi perchè aver stato il latte? quindi io dico, è stato un incidente e papà è stato un incidente, lui dice, tu avevo stato un incidente e io ok, vai merda, l'ho stoppato ah no no devi dire ciocco ma perchè la lucina rossa fa sempre così l'intermittenza ciocco cioccu unknown, Billy aspetta, devo dire il nome della scena non abbiamo mai detto il nome della scena va beh, per caso ci si capisce cioccu unknown, Billy e il latte versato ehi bimbi perché aver stato il latte? è stato un incidente tu sei un incidente lwaffanculo, aspetta noia... di vagina ok dai cioccu duu Billy e il latte versato ehi bimbi perchè!!! uguale sei un coglione sei un coglione però sembri un orso yoga ehi Billy perchè non sei davanti ehi Billy sembri un gigante fai così allora Chuck 3 Billy perchè hai versato il latte ehi Billy perchè ho sbagliato lì vabbè vai vabbè vai vabbè vabbè ti faccio vieni tu a fare il video Chuck 4 Billy e il latte versato ehi Billy perchè hai versato il latte vabbè 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 c'è scusa il video è così tu merda vai 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 Chuck 5 Billy e il latte versato ehi Billy perchè hai versato il latte proprio è stato un incidente oh è stato un incidente ok no è preso di profilo l'ho preso e adesso e adesso no 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 non abbiamo il vestito gay ehi con gli occhiali e adesso prima senza occhiali poi e adesso no no io mi prendo gli occhiali e gli faccio ha ha vediamo e magari mi metto perchè io sono tutta la maglia così tipo legato e adesso e però come fai a farlo in 3 secondi senza farlo no vabbè dai facciamo un'altra cosa no no facciamo un'altra cosa dai ehhh bel cielo Aquilonia beach ahah no no dai caricamento vai adesso facciamo ah si dai fanno tu questo ehi sei veramente tu dai dai fai ciaccuno e come ciaccuno il mago scrivi dai ciaccuno il mago sei veramente tu sei veramente tu sono io non c'ha che non 42 oh goodbye world e lì goodbye quello lì è il mondo vai tu rida qua dietro giusto vai io faccio il video la faccio io ciao ciao no vai addio mondo hai fatto eh John ciao come oh ciao John dov'è che te ne vai davvero oh no no e chi fa la voce al mondo io no tu devi lui deve fare goodbye world cioè ciao addio mondo eh tu devi fare addio però e tu inquadri la e io che farlo da dietro ok però tu devi fare addio mondo e poi si sente si deve sentire cosa faccio così no e tu devi fare oh no no però ti devi fare aspetta con la pistola qui devi fare avevo un rumore che sei forse ce l'avevo massimo lo stop solo e faccio solo uno madonna 13 minuti è più bello allora watch me now 30 30 ciak per fare oh gesù cristo ah fa ancora questo qua lo metto alla poi vedo però è stato al primo al primo eh e come si faccio così però devo tenerlo vicino al ah tu stai qua non sta andare lì dietro stai qua guarda non incontrare no devi fare la pistola però così faccio così no devi dire good boy non si vede quando spara nel video vai a dire addio mondo vabbè fai addio mondo ok vai e poi in quattro lì fai ehi dai 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 vai dai ok vai vai ciak cak1 addio mondo addio mondo ehi ciao mark dove che te ne vai di bello oh no oh no non credo che saremmo arrivati a questo punto e vai però sei riuscito a fare eh non lo sei riuscito a fare non si è sentito tanto ma ero vicino tanto eh ero vicino aspetta cosa possiamo fare adesso la torta con i figli e dove la trovi la torta beh fai un culo auguri mamma è una pietra è una pietra è quello lì sai quello lì sai quello lì ehi questo è il mio regalo grazie Desmond the Moomer come ci son finito dai cosa facciamo con questo no 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 non ce ne abbiamo un libro se no facevi via ha 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 non so leggere ma cosi col portafoglio non ho soldi ah dai 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 ah aspetta Jack uno non c'ho i soldi non c'ho i soldi hai venuto a vedere adesso e adesso e vai e adesso hai visto il mio nuovo cane ah ma non c'è nessun cane qui ah ma non c'è nessun cane qui beh facciamo fallo tu come fai ehi hai visto il mio nuovo cane oh che bel cane oh ma non c'è nessun cane qui oh vai vai c'è nessun cane c'è nessuno il cane ma dobbiamo stare più vicini però metterevi di là scusa metterevi di là 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 vai no tu devi fare è un bel cane guarda tu devi dire ehi guarda il mio nuovo cane no farlo tu no dai lo so farlo lo fai tu dimmi cosa dice l'altro cosa dice l'altro vabbè dai chak uno il cane ehi guarda il mio nuovo cane oh ma che bello cane ah ma non è adesso un cane tu devi fare no lo fai prima tu lo fai prima io chak due no prima di fai oh io fai oh chak chak due il cane ehi guarda il mio nuovo cane oh ma che bello cane ah ma non è adesso un cane tu ok ok